Che cosa sta combinando il Governo in merito al Corpo Forestale? Da Roma sempre brutte novità, in modo particolare per la nostra provincia di Sondrio, la provincia interamente montana che doveva avere dei valori aggiunti per il Governo per quanto riguarda la specificità montana. La novità di oggi è che il Corpo Nazionale, il Corpo del Forestale e la Polizia Provinciale verranno accorpati all'interno delle forze di polizia e di fatto ridimensionati. Questo è un grosso problema, specialmente per una provincia come la nostra, interamente montana, con delle valenze paesistico-ambientali d'eccellenza, per cui un presidio sul territorio a tutela del disesto idrogeologico, dello bracconaggio e di tutti questi valori ambientali che la nostra provincia mette a disposizione per il turismo, veramente d'eccellenza. E questo ci preoccupa molto, insomma, ma la cosa che ammareggia di più è che la nostra provincia doveva avere dei valori aggiunti in quanto tutelata dalla specificità montana. Oltre a torri le risorse, adesso si tolgono anche tutte quelle azioni che erano sul territorio, guardia forestale e Polizia Provinciale e ci chiediamo che futuro ci sarà, un futuro molto difficile e non ben definito.